Dal 21 al 23 luglio torna la magia del Peltuinum Theater Fest che si terrà nell'area archeologica di Peltuinum a Prata d'Anzidonia. Il festival che è organizzato dall'associazione Presenza è giunto alla sua seconda edizione ed è stato presentato in comune dall'assessore comunale alla cultura Sabrina Di Cosimo, dal sindaco di Prata d'Anzidonia Paolo Osani, da Francesca Spennati, della sovrintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio e da Daniele Monterosi che con The Experiment sarà tra i protagonisti del festival. Quest'anno non ci sarà il palcoscenico, ha sottolineato la direttrice artistica Veronica Visentin, attrice, perché lo scenario parla da solo e Peltuinum è stato teatro già secoli e secoli fa. La Di Cosimo ha detto che è lieta di sostenere con orgoglio e fierezza le iniziative come questa, lo spessore umano e culturale insieme alle ricchezze naturali e spirituali può portare a risultate importanti. Il festival ha un costo di circa 17 mila euro ed è sostenuto dall'amministrazione di Prata d'Anzidonia. Quello degli organizzatori è uno sforzo importante che l'amministrazione sostiene, ha detto il sindaco Osani, perché può rappresentare una svolta per l'intero territorio, del resto arriveranno ospiti da fuori città e regione che saranno presenti sul territorio per lavorare o assistere al festival. Si inizierà venerdì 21 luglio alle 18.30 con i saluti e l'aperitivo, tra le scenografie specchianti con i vini di Casali Liberati alle 21.30 ci sarà la musica con la band padovana Bottega Baltazar. Alle 21.30 invece di sabato 22 ci sarà The Experiment, uno spettacolo frutto del progetto di training innovativo che dieci giovani attori, anche se presenti all'incontro con la stampa, hanno portato avanti. Il regista e autore del laboratorio è Daniele Monterosi. Domenica 23 luglio sarà dedicata principalmente a giovanissimi perché alle 19.30 ci sarà in scena Topastra e Grimilde, tra parola e musica, presentato da Arti e Spettacolo con Tiziana Irti e Chiara Santucci. E alle 21 il viaggio Una storia senza età della compagnia Carmen Italia. Alle 22.30 chiuderà il Peltinum Theater Festival Cosmic, la proiezione di corti di fantascienza con musiche live eseguite da Mr. Geist al secolo Piercesare Stagni. Per tutti e tre giorni sarà possibile degustare prodotti e bevandi di produttori locali. L'ingresso è gratuito per tutti gli eventi in programma. È aperta a sperimentare perché continuamente in questo progetto si cerca un'innovazione da un punto di vista culturale e artistico ma anche un nuovo modo di vedere un territorio che è un patrimonio e che spesso lo si ritrova un po' abbandonato.